Eccoci di nuovo, scusate il gioco è crashato inspiegabilmente quindi ritorniamo alla wave 6 Arrivano i charger che sono comunque spaccaculi Mi sono dimenticato di dire che ovviamente con 1 le torri, premendo 2 andate sulle armi e potete fare un upgrade anche di queste Ora, per avviare l'ordata, un semplice invio Ecco sangue Una bella difesa Ok, attenzione stanno per arrivare i big walker Paura e panico Abbiamo fatto un po' gli update Vedo le torrette un po' titubanti Ok 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 Uscire da cecchino Upgradato E spaccotto C'è una marmaglia di cadaveri Vai sangue Vai le torrenti diventò 5 C'è una marmaglia di più Ok abbiamo sbloccato tutto Abbiamo fatto Ah una bella vittoria Un po' di statistiche Che sono cose molto importanti Ok La difficoltà medium 60% di core Ora c'è il livello prossimo Ciao